sentite ma questo qua è diventato lo spawn di questo pompa uuuu o sbaglio ma Diego io per il momento non ho visto niente di incredibile in questo aggiornamento ci hanno cambiato giusto una lobby a me sembra tantissimo un pre aggiornamento di qualcosa che verrà molto più grande questo è questo è quello che sto provando io vedendo sta roba qua non vedo un aggiornamento apocalittico mi aspettavo molta più roba di Halloween che poi magari metteranno successivamente ma per il momento ma quando cazzo ci vuole ad aprire una cazzo di cosa ma no tranquillo ragazzi 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 quanti minchia ne siete comunque fortanet sta facendo un po' come gli pare me lo voglio scusate regà ma sono abbastanza concentrato che vedo che pure sta partita tendenzialmente non è male da ganare bella la pizza io la pizza la posso subito prendere e faccio così buonasera Dark Evil si stasera siamo belli agguerriti si fortanet ma chi cazzo va bene lasciamo verde ok a mio avviso abbiamo riavviate la live e niente ragazzi io vi dico se vedrete mai questo video significa che ho fatto una bella partita ma la gente non impara proprio la gente non impara minimamente ma scoppa possiamo le prendere ok tutto di me 1-C5 mi sembra che già ve ne avevo parlato che non prenderò mai il lanciarazzi vero quello è l'identico identico motivo per cui io non prendo il lanciarazzi ragazzi l'avete appena scoperto no 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 ma per niente proprio regà no lanciarazzi dorato sta bene lì decisamente dove sta la scopa non è così forte me l'aspettavo un pochino me l'aspettavo un pochettino più forte eh ma il lanciarazzi una volta era buono regà quando fortnite ancora era agli inizi c'era il lanciarazzi che era apocalittico adesso stiamo parlando comunque di un'armetta un'armetta leggera regà ma quale forte lanciarazzi se non sei capace di giocare è forte o è ranked è diverso buonasera a tutti buonasera le trappole fighissime regà io sinceramente le rimetterei perché mi hanno sparato allora che c'è che c'è ? sì che c'è Mica lo vedo il figlione Rischio di morirci malissimo Allora io una prova la posso fare Bro This shot ha laggato un bot Questo è bravino raga Non vi dico che Non vi dico che fra me e lui Chi esce vivo da sto fight Se vince la partita Vada ne sei andato a fanculo Mi fa piacere Ok Non era lui Ma ve lo posso garantire che non era lui Allora Davvero mi va Di Cercare Dov'è questo qui Io mi direte si Però lui può essere veramente Andato ovunque guys Anche no volendo Eccolo là è lui Ci scommetto quello che volete No 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 Non Che cazzo è lancia le granate Che lancia le granate Sicuramente sto vedendo che ci sono problemi su youtube Molto molto bene Mi fa davvero molto Piacere E raga purtroppo se lagga Capite che non è colpa mia Purtroppo si vede che stasera ci stanno i server di fortnite Che fanno abbastanza defecar E io che ci posso fare patatoni belli? Non ci posso fare niente Purtroppo Purtroppo Dobbiamo vedere un attimo Questo è stato spappolato viva Questo è stato Praticamente annientato Cazzi suoi ovviamente Mamma mia che paura Ma neanche a fa così però Ok Sì questo è stato veramente Arato male però Il problema è che Uno forte L'abbiamo sconfitto Però vedo Sono sicuro che in lobby C'è un'altra persona forte Che lo stavo per spaccare Ma alla fine I don't Riuscito And Spacking Di figlio Di puttana Purtroppo No Devo dire Abbastanza rumoroso Io devo provare Da sopra raga Il nuovo pompa Raga mi fa Defecare Personalmente eh Ma è proprio schifo Ho provato a contendere Ma mica l'ho visto Ma è venuto sopra Ho notato che hanno tolto Le torrette Ok Non sto capendo Che sta facendo il tipo Ragazzi Perché è sotto Capito Questo può essere Uno di quelli forti Che vi dicevo C'è un altro Là davanti Ok La mira ce l'abbiamo Provo ad aprire Che dite Secondo me Secondo me Sbaglio Ho sta sensazione Provo eh Ciao Rissa Provo ad aprire Mi manca il guanto Di Frozen Che quello è molto 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 Porco zio Troppo agente Troppo agente Ragazzi Sono tipo Venuti in 45 Raga In 45 Non sto scherzando Senti come sparano Senti come sparano Giocate 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 Ah Questa è più difficile Rispetto a quella di prima Raga Questa è più difficile Questo piccone Non so se lo trovate Anche voi Fantastico È veramente figo Questo mi ricorda Il vecchio Fortunet Raga Oh Oh raga Ammazza se spara Il tipo Coscio Mamma mia Come spara Forse anche Un allero troppo Secondo me Vi dico la verità Secondo me Anche un allero troppo Aia Aia Pazza che palle Oh Ma che Non lo so Raga Non lo trovo Così legit Magari me Sbaglio eh Ma non lo trovo Così legit Raga Bella Matte Bella Lorenzo Non lo so Finchia raga Mi ha massacrato Raga Ma davvero Massacrato Non è vero Non mi sta Inseguendo Bro Ma che cazzo Ti dice la testa Ma seriamente? Ah Non Sniper Per cazzo Possibile? Raga Stanno tutti La Stanno due La No raga C'è qualcosa Che non va Nonna A me Vai a sparare Ma che sei scemo Ma dovevo io Dovano arrivare Le partite complicate Ma io non so Chi è che mi sta Sparare Raga Chi cazzo Mi sta Sparando A me Chi mi sta Sparando Eh Il problema Mio È questo qua Che sta Fa fuori Tutti Raga Questo è il mio problema Ragazzi Ragazzi c'è uno Che è un problema Enorme Se facciamo fuori Questo Probabilmente Abbiamo vinto Però Mi mancano Un botto Di perche Mi manca Un botto Di roba Siamo rimasti In tre Con le cose Che ho Non credo Di farcela Non credo Sapete Mi sembra Che lui Sia un po' Più forte Di me Figlio di troia Questo Me ne apprende Ma pensa te Ma pensa te Sull'albero È stato un altro Arbero Raga V Su Cazzo Di bot Let's go Su questo Su questo Let's go Tossicone Maledetto Sugli alberi Ma davvero Let's go E ci gode Maledetto Tu sia Brutto Tossicone Che stai Sull'alberone A farti Le pipite Tossicone Tossicone Che stai De Pour Questa